LIMONATTA! Chi vuole LIMONATTA? Sono povero, ho bisogno di soldi, questa non è nemmeno casa mia, la mia casa è questa Ciao a tutti, bei faccini e bentornati giocatori di Roblox, come state? Siamo qua, nella nuova città, perché ci siamo trasferiti Dobbiamo costruire una casa incredibile, dobbiamo costruire la nostra casa Guardate che bello, è tutto in costruzione Ho un vicino fantastico che vende la limonata, ho tantissimi vicini E noi oggi dobbiamo costruire la nostra casa E voi avete solo un compito, lasciare un mi piace a questo video Lasciare un commento, scrivete di che colore vi piacerebbe avere la vostra casa E mi raccomando, per tutti quelli che non si sono iscritti Che cosa state aspettando? Ok, allora, compriamo la casa, il terreno ce l'abbiamo Ah, guardate che bello, vai, costruiamo la nostra casa Non vedevo l'ora Ok, perfetto, vediamo Ok, ah, con la limonata Con la limonata ci compreremo tutta la casa Ok, perfetto Dai, vendi, vendi la limonata Vendi, vendi la limonata Ok, estendiamo il pavimento Ok, questo secondo me sarà il pavimento della cucina Ok, quanti soldi ho? 50 Li raccoglie automaticamente Limonata, 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 a breve anche aranciata Coca Cola non ne abbiamo Ok, allora, compriamo i muri Oh sì, wow, 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 wow Ma guardate la città che bella Dopo magari andiamo a vederla, eh E ci sono anche tutti i nostri vicini Oh, c'è qualcuno, ciao Oh, limonata, limonata? Ciao No, oh, oh Ma so guidare questo? Ma è del mestiere, oh Ma Ma che cavolo? Ha sradicato un lampione Oh mio Dio, ma in che città sono finito? Che città sono finito, ragazzi Ok, allora, cominciamo Muri Yes, ok Ancora costruiamo, ok, wallpaper Ah, grigio, eh Ok, altri muri Abbiamo i soldi contati, eh Allora, scioppettino Oh, ma quanto costa? Sì, vabbè Extra speed? Ma costa un sacco 600 Robux Per due di soldi Ma Roblox Ma tu sei fuori di testa Le macchine possiamo comprarci, ragazzi Ok, police car No, vabbè No, vabbè Il car armato Ma cosa? L'elicottero Qui dobbiamo diventare ricchi Dobbiamo farsi la nostra villa, eh Solamente come faccio a guadagnare di più? Io vorrei Allora, compriamo un altro chiosco delle limonate Ok Lemon dropper Un altro Dove me l'ha messo? Ah, ok Un barattolo Wow Ok, quindi Vediamo È arrivata della posta? Niente posta? Ok, compriamo la porta Perché altrimenti i ladri si divertono Oh, sta arrivando la notte Guardate le mongolfiere Comunque è bello, eh Questo posticino Ok La stazione Per dipingere Ok Dipingiamo Allora Il mio colore preferito è il verde Quindi io voglio la casa verde Oh, che bella Ok Sta facendo notte Ho bisogno di un letto Per dormire, eh Ok, vediamo Qua possiamo comprare Povimi Qua, ok Bagno Eh, direi perché mi scappa un po', eh Oh Oh, ah no, non era il bagno Era la Mamma mia Era la stanza da letto La bedroom Ok Decorazioni Ok, la barchetta a vela Oh, finalmente un po' di luce, eh Un lettino Posso dormire? Ancora no Perché chi dorme non piglia pesci Ok, di qua Vediamo Perfetto Il gabinet Oh, sì Oh Oh, scusate ragazzi Ma è da oggi che la tengo, eh Ok, decorazioni Un bello specchio Perfetto Ci facciamo una doccia Che puzziamo Come Mamma mia Ah Mamma mia Eh, devo dire Perché i polli Quando sudano Fanno Quell'odore di chicken M'nuggets Bruciacchiato Ok Perfetto Chiudi la porta Sì, ok Laviamoci le mani Perché ovviamente Mi dovevo lavare le mani Dopo che Mi raccomando Lavatevi le mani Dopo che fate le cose Ok Porta Perfetto Io direi Abbiamo dei soldi Per un'altra limonata Ok Un altro dropper di limonata Perfetto Ok Allora Vediamo La casa sta venendo bene Solamente che ci manca il tetto Sapete com'è Cioè a me piace vedere le stelle Quando dormo Solamente che Ok Eh Ok Perfetto Abbiamo fatto il tetto Poi vediamo Cucina Oh Guardate che bella Ok Le luci Non ci vedo niente qua Ok Luci Scendi le luci Spegni le luci Eh Scendi le luci Spegni le luci Scendi le luci No accesi dai Ok La casa sta venendo bene Però sono un povero Cioè mi dovrei trovare un lavoro Eh Mi dovrei trovare un lavoro Allora vediamo Cosa Manca Il frigorifero Frigorifero Perché non possiamo Ok Frigorifero Apriamo il frigo Oh Quanta roba da mangiare Allora Oh Ok Devo andare a fare la spesa dopo Perché l'hamburger Sta finendo Decisamente Ok Allora Vediamo Compriamo il forno Posso usare il forno No Non voglio mettere bella faccia Dentro il forno Ok Cosa ho comprato Cosa ho comprato Cosa ho comprato Cosa ho comprato Ok L'acqua calda Sta venendo Poi vediamo Living room Ok Sì Diciamo che la casa è piccolina Speravo un pochettino meglio Decorazioni Oh Sediamoci E guardiamo la tele Ah è vero Sono povero E non ho comprato Non ho comprato L'abbonamento a Netflix Cavolo Non posso guardare Le mie serie preferite Ragazzi Ok Allora Ma perché si è buggato qua Perché si è buggato Sto coso Ok Allora Vediamo Un tavolo Decorazioni Non abbiamo i soldini Vediamo Porsche Ah Pensavo la Porsche La macchina Ok Il porticato Abbiamo preso Bella Sta venendo bellissima Guardate il mio vicino Anche il garage Ma posso entrare Dentro la casa del mio vicino Toc toc vicino Sono io Ma che è La casa è tutta uguale Ma c'è da mangiare qua No non posso fregargli Da mangiare Sì Diciamo che le case qua Sono tutte standard Sarebbe un lusso Andare a prendere Un appartamento là Ok Allora vediamo Le piante Io direi Che prendiamo Un altro di questo Perché la limonata Dobbiamo venderne Un po' di più Eh Sì Così La mia casa Ho costruito Sì 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 Ok Un altro Banco Sì Vabbè Ma dai Ma devo sciopare Per averne uno Ma dai Roblox Va bene Ok Ok Acquistiamo Limonata di diamante Questa Questa mi sa Che Si vende bene Limonata di diamante Chi la vuole Chi la vuole Ok Buongiorno Buongiorno Ok Piante Ok Sta venendo bene La casina Finiamo l'interno Magari Bella faccia Prima Ok Allora Ma scusa Io il pavimento L'ho comprato Perché me lo dai ancora E anche il frigorì Si è bacato tutto Ok Decorazioni Ok Qua dentro Ho fatto tutto Vediamo Il bagno È completo La stanza da letto È fantastica Direi che ci siamo È proprio così Ok Stanno costruendo Dei palazzi Un motel Lì Diverse cose Ok Garage Ok Era ora Ok Garage Muri del garage Però dobbiamo avere una macchina Se no cosa ci serve Il garage Ok Ho sbloccato una nuova area Pizza shop Non ci credo ragazzi Abbiamo scioppato Eh si è scioppato Abbiamo sbloccato La pizza shop Ma quindi il mio ristorante Posso aprire anche un ristorante Ok Garage Ok Perfetto Ci siamo Ok Fans Oh che bello Ok Prendiamo Oh si dove possono giocare i miei figli Che non ho Prendiamo anche l'altalera Wuuu Ma che figli gioco io Wuuu Piralto Piralto Pah Piralto 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 Prendiamo anche l'altalera Prendiamo anche l'altalera Prendiamo anche l'altalera Siiii Ok Compra Pizza shop Le fondamenta Non ci credo ragazzi Che bello Siamo a Bloxywood Ok Che bello Abbiamo il nostro ristorante Oh adesso si che faremo i soldini E mangeremo la pizza Ok compriamo i muri E muri sia Altri muri Dai che devo guadagnare Devo arrivare ad avere un palazzo Ok muri Vediamo Questo cos'è Check out Carpet Ok un bel tappetino Prendiamo questo E ci siamo Pizza Bravi Oh si Allora Mi raccomando La pizza con la margherita è la migliore La pizza italiana Non pizza ananas Ok mi raccomando Altrimenti i clienti scappano Ok perfetto Compriamo dei tavoli Così possono venire i clienti Poi vediamo Compriamo Un altro banco Perché facciamo le salse buone qua Poi compriamo Vediamo Questo cos'è Compriamo Oh la pizza coi funghi Buona la pizza coi funghi eh Ok Perfetto Altri tavoli Clienti Una porta Altrimenti qui viene freddo Ok segnali Eh Pizza Vediamo pizza Vediamo la pizza Signore Signore Ah va a lavare la macchina Ok Allora Compriamo Questo Poi Il segnale Che vendiamo la pizza Dov'è No cosa mi ha messo Ah pizza Ok qua Ok questo cos'è Il parking Il parcheggio per le macchine Perfetto Poi vediamo Questo cos'è Ok Perfetto Della vegetazione Mamma mia Che bel Pizza Vediamo pizza Non c'è Non c'è nessuno qua Poi che altro Ok Ah per stare fuori Che belli Ok tavolini per stare fuori Qua ho comprato tutto Dentro dobbiamo finire C'è ancora tanto da fare Finestre Ok Dobbiamo anche mettere il soffitto Sai com'è Bella faccia eh Allora stiamo vendendo qua Stiamo vendendo Ok mi raccomando eh Dobbiamo vendere anche a domicilio Ok la pizza qua Ah che buontà Ok allora vediamo Facciamo Mettiamo dei quadri Ok perché la pizza È il nostro Bene più prezioso Poi vediamo che altro Compriamo Delle strisce Ok perché non so È carino Oh C'è qualcuno Sento delle macchine No non sta arrivando nessuno Dobbiamo farci pubblicità eh Secondo piano addirittura Voglio Voglio la pizza Quando Quando arriva la mia pizza Sono il capo qui Ok Prendiamo altri tavoli Uh i clienti Sì Il nostro primo cliente Allora come sta procedendo La sua giornata Ok allora Non ho più tanti soldini eh Devo comprare Che cos'è questo Vediamo Altri tavoli Ok Direi di fare il piano superiore Adesso Oh mamma ragazzi Possiamo già comprarci Qualche macchina breve eh Ok Starter car Starter car Non è male eh Ok Piano superiore Oh sì Perfetto Ok Non si vede niente Servono delle luci E luci Sia Ho detto E luci sia Ok Ok Il menu Possiamo cambiare anche menu Oh mamma mia Ma diventerò ricco Comunque sia È certo che se non vengono i clienti Dobbiamo fare tipo una locandina Un qualcosa Per attirare la clientela Ragazzi Sennò qua Non viene l'aria di un cliente Ve lo dico io eh Ok Bui Compra menu Ok Hai qua Ok Allora io vorrei un Che cavolo c'è scritto Là non riesco mai a leggere Che cavolo c'è scritto Ok allora Devo comprare Le scale Per andare di sopra Giustamente E scale siano Ok Oh mamma mia Sì vabbè Ma di chi è quel palazzo In costruzione Ma io voglio quello Voglio che la città Sia tutta mia Ok Ok comunque abbiamo completato Non abbiamo completato Il pizza shop Ma abbiamo Lo studio Cioè adesso possiamo fare Il nostro studio Andiamo a fare lo studio Oh mamma mia Ma che facciamo qua Cosa studiamo Ok Appartamenti Che cavolo ho Lo studio per il mio lavoro Da imprenditore Se io ormai sono un imprenditore Compriamo la macchina Ok macchina presa Dove ce l'ho A casa Amore Sono tornato Dov'è la macchina Sicuramente in garage Ecco Apri il garage Open Aprire Prego Ma non c'è la mia macchina dentro Ma dov'è la mia macchina Oh E spawnala Non c'è la mia macchina La mia macchina Oh Ciao piccolina Tutto bene Eh no Ho sbagliato Ho sbagliato Devo guidare da questa parte Andiamo Oh sì Adesso Me ne vado al lavoro Con la mia Lamborghini Sì è proprio una Lamborghini questa Oh mamma mia Allora vediamo Dobbiamo andare di là Perché è arrivata ora di fare Il ristorante al piano 2 Oh ma questo è Oh mamma mia Ma ho i concorrenti eh Maledetto Ha fatto anche lui una pizzeria Ma poi una pizzeria così vicino alla mia Ma come osa Un'altra pizzeria Ma ecco perché non vengono i clienti Ci sono 300 pizzerie in questo posto Ma che bello guidare Oh Ok Non è successo niente Un parcheggio perfetto Fantastico Allora vediamo Torniamo in pizzeria Perfetto Devo farlo un pochettino più carino È per quello che non vengono i clienti Allora vediamo Altre luci Ok Illuminate Illuminate Ok Compriamo Un altro Coso per la pizza Un altro forno Così ne fate molte di più Perché ne state facendo poche Non stiamo guadagnando tanto raga Raga Forza raga Di sopra Vediamo Compra qui Compra qua Poi che altro Altri muri Ok Altri muri comprati Qua cos'è Altri muri Abbiamo speso tutti i soldi Abbiamo speso tutti i soldi Oh Ho sentito qualcuno Clienti No Nessuno Pizza maker Ok ragazzi Mi raccomando Consegna a domicilio È forza Bravo Mettilo lì Ti guardo Se fai bene il lavoro Ok Poi che altro Ok Questi sono i cartoni Della pizza Che li spediamo Direttamente qua Perfetto Allora direi di fare Delle strisce Delle finestre Poi che altro Vediamo Compriamo Il freezer Perché qui Facciamo le pizze Però quelle surgelate Ok Le surgelate Quello Che schifo Allora vediamo Il frigo Ok Oh Sta facendo notte Ok Un bel frigorifero No Che cos'è Ah Le mettiamo qua Ma scusa Serve un frigo Se no qua Porca miseria Ok Stai incominciando a costare un po' troppo La roba Roblox Datti una calmata Ma cosa sta succedendo qui Eh Cosa sta succedendo Ok Allora mettiamo Un bel Soffitto Ok Poi mettiamo delle luci Perché io non sto vedendo più niente Accendi Grazie Perché qui Bisogna lavorare Ok Abbiamo sbloccato Un'altra casa Ma siamo ricchi Siamo diventati ricchi Allora andiamo un attimo allo studio Perché qua dobbiamo fare qualcosina Ok Devo comprare un appartamento Lo studio L'appartamento per lo studio Perché qua Come posso dire Non è tutto mio Questo Qui è la reception È un palazzo dove mi compro il mio studio Ok Costa 5.000 Direi di comprarlo Ok Vai Andiamo allo studio Woo Ok Bello Carino Una bella vista Sicuramente di Bloxywood Fantastica Dov'è la mia casa? È là? Ok Compriamo il pavimento Poi che altro I muri belli Le luci Oh Guardate Ma cosa farò mai in questo studio io? Cioè cosa faccio? Comunque sia c'è anche la nuova casa Oh 10.000 No vabbè la villa ragazzi Cioè mi posso fare la villa Eh però devo finire la pizza Cioè devo finire qua Ma che cavolo è qua? Oh Segnali per la pizza Oh Adesso sì che bella eh Ok Vediamo Ancora la pizza non l'ho finita qua Ma quanto manca? Allora vi decidete a vendere? Dobbiamo vendere Che manca? 10.000 Per la salsa? Cioè la salsa costa così tanto? Ma mi prende in giro? Ok Qui finiscono tutte le pizze da congelare Eh aspettiamo un po' Che devo dire? Compriamo pizza maker Un altro Benvenuto Vediamo come lavora signorina Qui facciamo solo le pizza buone Capito? Ok Prendi Metti Prendi No no Non dentro il corpo Prendi Metti Ok Prendi Metti Bravissima Ok ragazzi Aspettiamo 10.000 Perché io voglio finire la pizza shop E ora della salsa Sì Abbiamo finito sta pizzeria Mamma mia Ok Uh sì Guardate Adesso facciamo Prima facevamo solo la crosta Adesso ci mettiamo addirittura La salsa della pizza Ma questa L'avete messa una sopra l'altra Ragazzi state più attenti Ok Via Adesso ci mettiamo i condimenti Sì Pizza completata Adesso dobbiamo fare le altre due Ragazzi Se volete che bella faccia Diventi veramente il presidente Di tutto questa nuova città Fatemelo sapere Perché ci facciamo un altro video Spero che questo vi sia piaciuto E ci vediamo in un prossimo fantastico video Ciao Se volete la pizza venite qua Ciao Ciao